signori costa azzurra fin del 59 con alberto sordi e anche altri fatto anche abbastanza bene non gli do un 8 perché va bene c'ha qualche annetto quindi magari tante cose per sembrano un po scontate ai tempi nostri però magari ai tempi piaceva di più non so cosa dire esattamente non mi è dispiaciuto l'ho visto volentieri non lo rivedrò sicuramente mai però sono delle cose interessanti basta così 7.5 un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao